Evasore totale per oltre un milione di euro scoperto dalla Guardia di Finanza di Chieti sulla costa dei Trabocchi. Svolgendo l'attività di noleggio di veicoli senza conducente, emetteva fatture per operazioni inesistenti. Nei guai anche altre 14 persone denunciate per truffa. Le fiamme gialle della tenenza di Ortona hanno anche scoperto che l'Evasore era riuscito a percepire contributi pubblici per 320 mila euro, finalizzate alla promozione delle sue attività di noleggio all'estero, anche attraverso un sito di e-commerce. Non solo, aveva fatto richiesta per altri 380 mila euro l'ereguazione stata impedita dall'intervento dei finanzieri. Il modus operandi, finalizzato alla truffa aggravata, consisteva in bilanci alterati dalla posizione di ricavi mai conseguiti ma attestati da fatture per operazioni inesistenti, così creando artatamente le condizioni per ottenere i finanziamenti pubblici. Oltre alla segnalazione, l'autorità giudiziaria competente dei responsabili è stata inoltrata apposta richiesta per il recupero delle somme illecitamente percepite. Infine è riscontrato l'incasso di somme eccedenti in limite di legge previsto per la circolazione dei contanti, con sanzioni nei confronti di tre soggetti di complessivi 92 mila euro.